Giovedì prossimo torna l'appuntamento con la salute pubblica dopo il telegiornale Occhio alla Notizia alle 20.45. Le nuove frontiere in campo di chirurgia endoscopica con strumentazione all'avanguardia nelle Marche, oltre al centro di riferimento regionale per i disturbi respiratori nel sonno ed il reparto integrato di Ottorino alla Ringo e Iatria di Marche Nord saranno gli argomenti di questa terza puntata di Missione Salute, dove il dottor Giuseppe Migliori, primario dell'unità operativa, ci guiderà all'interno del mondo della chirurgia, degli interventi e delle prestazioni date in ambito Ottorino. Parleremo o cercheremo di far capire prima cosa che cos'è la specialistica di Ottorino alla Ringo e Iatria e quali sono i distretti di pertinenza, poi parleremo di quelle che sono le attività dell'Ottorino alla Ringo e Iatria di Marche Nord deputate alla diagnosi e al trattamento chirurgico sia dei bambini che degli adulti di pertinenza a Ottorino alla Ringo e Iatria, quindi dei distretti testa-collo. Da tempo vi occupate anche dei disturbi del sonno, anche questo sarà un argomento della puntata? Sì, sarà un argomento anche questo e dal 98 che ci occupiamo dei disturbi del sonno e per questo intendiamo sia la roncopatia, quindi il comune russamento, che le appanee del sonno, abbiamo sviluppato una competenza che ci è stata riconosciuta oramai a livello nazionale, anche con un accreditamento da parte della Regione Marche come centro di riferimento regionale e stiamo enormemente incrementando quelle che sono le possibilità di afferenza a questo centro da parte della popolazione. Nella seconda parte della puntata, come sempre, voi telespettatori potrete rivolgere domande e osservazioni direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate chiamando FanoTV allo 0721 861433. Dalle 20.45 in poi, dopo il Tg, occhio alla notizia.